...della rì le sempre stampo ben servì, quel mes de qua e quel mes de là è il gado delle comodità, barberi, sartori, caglieri, pitori, la cooperativa con del performenton e la cassa rurale con ben qualche milione, quelli da Cauèon gli hanno gozzi come il cane della poina perché quelli dalla riga alla scuola sull'us della cosina, alla riga manca la cattedrale e dopo il polparla la capitale. Grazie a tutti!